Continua a giocare come abbiamo fatto in primo tempo, in primo tempo forse abbiamo speso anche tantissimo perché abbiamo fatto veramente un bellissimo primo tempo. Non dimentichiamo che oltre a Nalini che è uscito come dicevi tu, chiaramente ci ha creato perché stava facendo veramente i danni all'avversario sulla faccia. Non dimentichiamo che c'era un giocatore come Bobo che la prima partita che faceva è arrivato da pochissimo e che alla lunga sapevo che avrebbe pagato un calo di ritmo. C'era giocatore come Treviso che è più di un mese che era fuori e quindi anche questo nel secondo tempo quando i ritmi si sono alzati perché l'avversario chiaramente aveva dei cambi di grande qualità si è giocato tutte le possibilità, gente di gamma, gente di grandissima qualità in quel momento lì noi dovevamo essere un po' più, come si dice, furbi, un po' più attenti tenere ancora più palla come abbiamo fatto nel finale del primo tempo, noi facevamoci da palla molto bene. Invece è venuto dopo quattro minuti questo bellore, mi sembra che l'albitro non lo aveva dato, poi ci ha ripensato, però mi dicono che forse c'era, mi lancio l'albitro, non l'ho rivisto, dopo quattro minuti subisci 1-1, lì dovevamo ricompattarci, avere la pazienza di giocare aspettando di trovare qualche opportunità, qualche occasione buona e invece siamo voluti subito andare a rifare gol e lì un po' stanchi, un po' come ho detto prima, una mancanza di lucidità di qualche giocatore perché era molto tempo che non giocava, lo stesso sostituzione in a linea obbligata, in quel momento lì abbiamo pagato qualcosa, l'avversario, un avversario esperto, esperto di grande qualità, negli spazi ci è andato a nozze, ecco lì è stato secondo me il vergole più grande che abbiamo fatto, abbiamo concesso che poi una volta che vai 2-1 è ancora più difficile perché l'avversario fa girare palla e non era sicuramente agevole riuscire a trovare delle soluzioni in fase effettiva. Stiamo giocando bene, chiaramente ho dovuto cambiare, ho spostato un po' negro sull'esterno perché c'era questo Lopez che veniva su, ci siamo messi sempre con come eravamo, come siamo partiti però un conto di Ceranalini che ha un altro tipo di borsa, un altro tipo di gamma, un conto di Ceranalini che si è sacrificato per la causa e l'ho detto a mezzo da loro di testa alta perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e poi nel secondo tempo purtroppo abbiamo preso questo rossurdo dopo 4 minuti che ci ha messo un po' in ansia e lì volevamo subito riandare avanti invece del momento magari di spezzare poi il ritmo. Quali sono le condizioni? Lì infortunatamente non c'è niente di rotto però c'è una gaviglia molto gonfia, io speravo rimanendo in campo fino alla fine del primo tempo per poi vedere l'interfalsi, invece a un certo punto il ragazzo non ce l'ha fatta più e questo è il cambio, però ben vicino che è entrato, si è battuto con un leone, ha fatto la sua onnesta partita, mi sembrava anche il momento appunto che potesse essere scelta lì.